Avete appena incontrato il sindaco, cosa vi ha detto? Siamo fieri e felici di aver incontrato il sindaco come semplici cittadini lavoratori dell'Amtab. Ovviamente nel rispetto delle regole non abbiamo chiesto al sindaco l'incontro attraverso le organizzazioni sindacali, ma lo abbiamo chiesto come semplici cittadini lavoratori e il sindaco dall'alto della sua più totale professionalità ci ha accolti, ci ha ascoltati, abbiamo dato la nostra motivazione per i problemi endemici che l'Amtab ha, ha concordato con noi su certi passaggi, essendo lui ex assessore ai trasporti, quindi in prima persona sapeva di cosa stavamo parlando e siamo felici di aver condiviso con il sindaco gli obiettivi, gli obiettivi che sono il rilancio della città metropolitana attraverso il trasporto pubblico locale e il rispetto per i lavoratori, per quei ragazzi che tutti i giorni trasportano milioni di persone. Grazie